Gli allenamenti di box per contrastare l'avanzata del morbo di Parkinson, questa è la strategia adottata dall'associazione Un Gancio al Parkinson, è illustrata nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze. Quello toscano è un metodo innovativo per contrastare con lo sport una malattia che in tutta la regione colpisce 20.000 persone e 2.000 solo a Firenze. È un esperimento che sta dando buoni risultati, aiuta a stare insieme, aiuta a migliorare, aiuta ad avere buoni risultati sul piano della salute e quindi ancora una volta lo sport al servizio della salute. Il presidente dell'associazione Un Gancio al Parkinson, Maurizio Bertoni, ha ricordato che i vantaggi della boxe nel contrasto alla malattia stanno nella capacità di coordinare movimenti e riflessi e di ridare tonicità ai muscoli. È una tecnica che prevede di fare ai pazienti affetti a Parkinson un'attività motoria che richiama l'allenamento dei pugili naturalmente, non c'è combattimento ovviamente, perché pare che essendo molto attiva stimola un recupero motorio, anche cerebrale, per cui pare che sia molto efficace e degli studi già ce lo stanno dimostrando. L'associazione Un Gancio al Parkinson ha poi annunciato entro febbraio uno studio sui benefici della boxe su 25 pazienti di età compresa tra i 50 e i 75 anni attualmente seguiti gratuitamente a Firenze.